Buonasera e bentrovati all'appuntamento del mercoledì con Senti chi parla. Alcuni decenni fa si diceva, ed è rimasto nella storia di Ragusa, Italia una, Rausa, Roe. E questa era una maniera per un po' giustificare una forma di campanilismo che c'è sempre stata latente tra Ragusa Ibla e Ragusa Superiore. Ragusa Superiore fu fatta da furiusciti di Ragusa Ibla, dopo il terremoto ci fu il baroneleggio che decise di spostare per chi volesse la città nella zona alta della collina. Molti rimasero a Ibla, molti vennero a Ragusa. Questa forma di campanilismo cittadino è un po' particolare, perché in genere il campanilismo è stato sempre qualcosa che ha contraddistinto due città vicine, mai la stessa città. Invece questo campanilismo è durato nei decenni e cosa più interessante, secondo me da un punto di vista storico, è un campanilismo che si è trasferito, anzi forse ha iniziato, proprio con le due più importanti chiese della città, la cattedrale di San Giovanni e il duomo di San Giorgio a Ibla. Io stasera ho il piacere di avere come ospite Padre Antoci, che è il direttore dell'archivio storico della diocesi di Ragusa, il direttore dell'ufficio beni culturale della diocesi, nonché parroco di Monterosso, di San Giacomo e credo ancora qualche altra cosa. Il Padre Antoci è uno studioso fondamentalmente e ha un po' ricostruito tutto quello che ruota attorno a una domanda. Chi è il padrono di Ragusa? San Giovanni, San Giorgio o tutte e due? Padre Antoci. Bene, intanto buonasera a tutti. Questa è una domanda da un milione di dollari. Intanto bisognerebbe chiarire bene il discorso del che cosa significa padrono. Padrono significa protettore e nella chiesa, fin dall'inizio, ci si è affidati alla protezione, più correttamente all'intercessione, perché i santi sono coloro che ci precedono nel cammino di fede, sono un esempio di fede, di cammino cristiano, ma a loro ci si può affidare anche per chiedere una preghiera, per intercedere presso Dio, che è la fonte sempre di ogni grazia e di ogni dono, per intercedere presso Dio in favore di chi si rivolge a loro, di chi è il loro devoto. E diciamo, nei secoli poi questa situazione di patronato, dal patronato personale, si è estesa poi al patronato di una comunità, al patronato di una chiesa, al patronato di un'intera città, e al patronato di una nazione e così via, di volta in volta, per diversi motivi. E i patroni, oggi diciamo chi è il patrono, la domanda era questa, in realtà nella storia della chiesa i patroni sono stati tanti, addirittura ci sono città come Napoli, per esempio, che ne ha più di 30 patroni, a parte San Gennaro, ma se voi proprio andate a Napoli, nella cappella di San Gennaro, vedete che ci sono i mezzi busti, molto belli, d'argento, del 600, di tutti i patroni di Napoli, che sono 34, un numero, perché di volta in volta, che cosa succedeva? Si instaurava una devozione di un santo, e allora questo santo la città diceva, questo è patrono, e poi un altro e diventava patrono, poi si scoprivano le reliquie di un santo e questo diventava patrono, e così via, avveniva in questo modo. Ora, il problema, che è poi anche il nostro problema strettamente, nasce nel 1630, con Papa Urbano VIII, il quale ha voluto mettere ordine a questa situazione, e con un suo decreto, che si chiama Decreto Super Elezione Santorum in Patronos, cioè decreto sulla elezione dei santi come patroni, che del 23 marzo 1630, ha voluto mettere ordine in questa situazione. Perché ha voluto mettere ordine? Perché nel tempo le feste dei santi erano diventate feste di precetto. Festa di precetto significava che in quel giorno si doveva adempiere il precetto festivo, quindi non bisognava lavorare, non si lavorava. Poi molte di queste feste di santi avevano anche l'ottava, e anche l'ottava era di precetto, quindi significava che già due giorni all'anno, in occasione del patrono non si lavorava. Pensate questo, moltiplicato per tutti i santi, mettiamo dove ce n'erano 30, quindi significava che erano 60 giorni in cui non si lavorava, in più c'erano i precetti della Chiesa, quelli che non erano Pasqua, Natale, Pentecoste, quindi diventava una cosa, un problema economico. A Napoli ci credo che erano 32. Ma non era soltanto il discorso di rapo, ma anche se pensi a Palermo, per esempio, anche Palermo ha tante sante, tutte patrone, Santa Oliva, Santa Ninfa, oltre poi a Santa Rosaria, che è diventata patrona nel 620, in seguito al ritrovamento delle reliquie e alla liberazione della città dalla peste. Per cui avveniva questo continuo aumento dei, quelli che già avevano il diritto, restavano diritto, quelli si aggiungevano gli altri. Però tutto questo comportava un problema pratico, proprio anche economico, perché significava togliere giornate lavorative. E allora, Papa Urbano Ottavo che cosa ha detto? Ha introdotto la distinzione tra patrono principale, da celebrarsi con rito doppio di prima classe, cioè precetto e ottava, rito doppio si chiama, e patroni secondari, da celebrarli con rito di seconda classe, quindi senza precetto. E quindi questa era, per cui lui diceva, patrono principale è uno, quindi la festa di precetto è una. Ed è festa liturgica, cioè il problema essenzialmente è liturgico. Infatti la competenza di questa materia è competenza della, una volta si chiamava la congregazione dei riti, congregazione vaticana dei riti, oggi è la congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Comunque, sembra una questione eminentemente liturgica, che riguarda la realtà liturgica. Ora, giustamente la festa di prima classe significa che è una festa, una solennità, quindi in quel giorno, si deve, in tutte le chiese, di quella zona, di quel paese, si deve celebrare la messa in onore del santo, di cui c'è la memoria quel giorno. Quindi il problema essenzialmente è liturgico. Non è un problema che un santo è migliore dell'altro, che questo sarebbe proprio veramente sciocco, che i santi sono tutti uguali. Se c'è qualcuno migliore, l'unica è la Madonna, perché è la regina di tutti i santi. E poi ovviamente, senza considerare il nostro Signore Gesù Cristo, saliamo ancora di grado in quel caso, ma gli altri sono tutti allo stesso livello. E non è che un santo è migliore dell'altro, soltanto che la memoria liturgica. Certamente questo poi ha generato nell'idea collettiva quello che è un santo, che è il padrone, è un santo migliore degli altri che sono... Ma secondario non significa che è meno importante, perché alla fine il santo è quello di cui uno è devoto. Quindi io posso essere devoto di San Pio da Pietralcina, e per me è esatto a quello. Come ce ne sono tantissimi, che sono più devoti di San Pio che non di altri santi. Per dirne uno, oppure si potrebbe dire per tanti altri. Ma quindi, questa era la situazione. Ora, Urbano Ottavo ha voluto mettere ordine in questa situazione. E allora, in questo decreto, era previsto che si riunisse un'assemblea di cittadini che ratificasse e che dicesse quale volete, praticamente la domanda era quale volete come santo. Certo. Primario. Primario, come santo, perché quello vale soltanto, come santo vale uno e basta. E allora, il 10 marzo del 1643, siamo 13 anni dopo, però dobbiamo considerare anche che il regime, diciamo, ecclesiastico siciliano, era un po' particolare. perché la Sicilia, fin dal tempo dei Normanni, godeva della legazia apostolica. Cioè, il re di Sicilia era legato apostolico. Il legato apostolico è un incaricato plenipotenziario del Papa. Quindi, quello che dice il legato, ma nemmeno, ha lo stesso potere del Papa. Ha diritto. E ha lo stesso, perché è il Papa che delega il legato apostolico, legato, significa delegato del Papa. Quindi, è il suo delegato e quindi lui, e il Papa, Urbano II, aveva, secondo una, diciamo, un'antica tradizione che poi è stata messa in discussione, comunque, in Sicilia vigeva la legazia apostolica. Quindi, tutti gli atti della Santa Sede dovevano passare prima per il Tribunale della Regia Monarchia di Palermo, che era un tribunale apposito che si occupava di queste questioni. E quindi, col Plaget del re, in realtà, in Sicilia poi era il vicerre, che decideva, però era questa. Quindi, la trafila era un po' lunga. Prima doveva essere accolta, doveva essere accettata, doveva essere definita. Bisogna vedere anche i rapporti diplomatici che c'erano fra la Santa Sede e il Regno di Spagna. E quindi, la cosa era un po' complicata. Quindi, si arriva a molto tempo dopo, 13 anni dopo. Comunque, a Ragusa, questo avviene, il 10 marzo del 1643, quando un'assemblea di 20 cittadini, in osservanza a questo decreto, dice che San Giorgio è il patrono principale della città di Ragusa. E che, antica, tradizione, da sempre, è stato San Giorgio. Quindi, questo è l'8 agosto del 1643, qualche mese dopo, il Vescovo di Seracusa, Giovanni Antonio Capobianco, ratifica questa nomina. e poi successivamente viene ratificata anche dalla congregazione dei riti, allora, come si chiamava, quindi dalla Santa Sede. Quindi, diciamo che, dal 1643, San Giorgio è patrono di Ragusa. E quindi, la cosa continua poi nel tempo, fino al 1865. Il 1865, e che cosa è? Dopo l'unità d'Italia, avviene che la città di Ragusa si divide in due. C'era stata già una prima divisione nel 1695, cioè dopo il terremoto, in due, perché si era creato questo nuovo abitato, il nuovo abitato si sviluppa e ottiene il titolo di città e così via. E questo. Ma questa è una realtà che subito viene, perché già nel 1703, quindi appena, diciamo, otto anni dopo, si ritorna tutto così come era prima. Con un'unica città. Volevo specificare questo, una cosa. La città è la città di Ragusa. La città si è chiamata sempre Ragusa. Il nome Ibla viene molto molto dopo, ora vedremo quando, quindi, perché tante volte si fa confusione su questo. La, il, dicevo, nel 1865, dopo l'unità d'Italia, avviene una divisione, però questa volta la divisione non è stata voluta da, diciamo, dalla parte di sopra, ma è stata voluta dalla parte di sotto, perché è stato il comune di Ragusa inferiore, e infatti il reggio decreto del 1865 dice così, la frazione dell'attuale comune di Ragusa, denominata Ragusa inferiore, inferiore anche qui, voglio specificare, non più bassa, inferiore nel senso di altezza, nel senso di altezza sul livello del mare, non assolutamente, è costituita in comune distinto, conservando la sua stessa denominazione di Ragusa inferiore. Poi, successivamente, questa, diciamo, nel, soltanto nel, nel, nel 1922, il comune di Ragusa inferiore, perché intanto questo nome suonava non tanto bene, perché poteva essere equivocato, ottiene di cambiare il suo nome in quello di Ragusa Ibla, in quello di Ragusa Ibla, e diciamo il nome Ibla nasce proprio lì, 1922, riprendendo un'antica tradizione, diciamo, ma tutta da verificare questa, perché gli storici greci parlano di tre città con il nome Ibla, tre città sicule che i greci hanno trovato con il nome Ibla, Ibla Minor, Ibla Maior e Ibla Erea, e secondo alcuni storici siciliani del 1500, fin dal 1500, questa Ibla Erea corrisponderebbe più o meno con il sito di Ragusa, di Ragusa, diciamo, il sito di Ragusa, perché il nome è Ragusa, questo è importante da sottolineare così per informazione storica, e che cosa succede? Poi in questa situazione in cui abbiamo il comune di Ragusa e il comune di Ragusa inferiore, due comuni separati, il comune di Ragusa decide di scrivere alla Santa Sede il comune, la parrocchia di San Giovanni, una serie di cittadini, e cioè scrivono alla Santa Sede perché il San Giovanni Battista venga nominato padrono di Ragusa. Scrivono alla Santa Sede e la Santa Sede diciamo nel 1896 la congregazione dei Riti riconobbe San Giovanni Battista padrono principale di Ragusa superiore, assegnando e declarando eccetera eccetera. quindi siamo però di fronte a due entità perfettamente il problema nasce proprio qui il problema nasce proprio qui il problema nasce proprio qui siamo davanti a due una che diciamo perché questo poi tra l'altro nella nella la parte diciamo inferiore che si è staccata ha perso tutti i diritti perché infatti questo c'è una come si dice una un atto diciamo della un'interpellanza che è stata fatta al Ministero dell'Interno allora proprio sul fatto che alla parte inferiore insistendo questo comune sulla parte più antica della città aspettassero i diritti della città di Ragusa invece il Ministero del del Ministero dell'Interno si diciamo rispose negativamente dicendo che invece no siccome quella parte si è staccata allora tutti i diritti della città di Ragusa rimanevano dell'antica città di Ragusa si arrestano nella quindi questo diciamo è lo status questionis ora dicevo nel 1896 la congregazione dei riti assegna a San Giovanni il titolo di patrono di Ragusa il problema però naturalmente ovviamente questa cosa non è rimasta così perché il clero e soprattutto il capitolo di San Giorgio che amministrava la chiesa di San Giorgio ha fatto opposizione giustamente alla Santa Sede per questo ed esattamente ed esattamente nel il 28 luglio 1896 questo ricorso viene esaminato dalla congregazione dei riti la quale respinse lo ha respinto dicendo rescribendum censuit indecisis cioè che significa ribadiamo quello che già è stato deciso quindi chiusa la questione il capitolo di San Giorgio allora ha presentato un secondo ricorso un secondo ricorso dicendo va bene è così non possiamo fare diversamente però la festa patronale deve essere celebrata il 24 giugno perché la festa principale per la chiesa universale di San Giovanni e Battista è il 24 giugno che ha il titolo liturgico di solennità mentre per la chiesa universale la festa del 29 agosto ha il titolo di memoria esiste nel calendario ma è solo al titolo di memoria allora loro dicono no allora la devono fare il 29 agosto il giorno della decabitazione come della sì della sì della decollazione di San Giovanni Battista allora la congregazione di Riti l'11 gennaio 1897 conferma che invece la festa patronale va celebrata il 29 di agosto e quindi così diciamo la situazione definitivamente così è rimasta diciamo poi quando il 2 gennaio del 1927 c'è stato il riordinamento delle circoscrizioni provinciali cioè nasce la provincia di Ragusa l'articolo 1 dice l'istituzione della provincia di Ragusa dice che l'articolo 1 istituisce la provincia di Ragusa di questo reggio decreto del 2 gennaio 1927 l'articolo 4 prevede che il comune di Ragusa e Ibla venga unito a quello di Ragusa e cessa naturalmente di esistere come realtà autonoma ecco questo è un po' tutto il a questo punto e naturalmente da quello poi è rimasto che infatti già l'ordo della diocesi di Ragusa con la nascita della diocesi di Ragusa nel 1927 1955 e già l'ordo della diocesi l'ordo sarebbe il calendario liturgico il calendario in cui sono indicate tutte le celebrazioni liturgiche che indica già la solennità di San Giovanni Battista patrono principale della città di Ragusa il 29 agosto patrono principale sì perfetto infatti allora questo significa se non ho capito male che il patrono principale di Ragusa e San Giovanni diciamo che da questo discorso sì però in realtà nella pratica tutti e due sono a godono dello stesso perché quello che conta del patrono non è il titolo non è la carta ma è la devozione delle persone e noi sappiamo benissimo che nella città che in Ragusa hanno devozione per l'uno e per l'altro quindi questa diciamo la realtà uno ha diritto in quanto c'è stato l'ultimo documento un altro avrebbe diritto in quanto l'antichità ma diritto ormai a che cosa tra l'altro ormai con le nuove normative anche liturgiche ma anche soprattutto diciamo statali la festa patronale non è più festa di precetto per le normative liturgiche e quindi cade tutto il principio che reggeva questa situazione ormai cade perché ormai non è più nel nuovo codice di diritto canonico la festa patronale non è più fra le feste di precetto obbligatore della chiesa quindi ormai il problema si risolve il problema diciamo bene bene grazie Padre Antoci io a questo punto concluderei dicendo meno male che non siamo a Napoli perché a Ragusa due patroni ce li possiamo anche tenere per mettere e tutto sommato siccome sotto alcuni punti di vista purtroppo una festa patronale anche folklore e tutto un movimento che si crea meglio due di uno sì alla fine il problema è entrare nella logica che non si tratta di uno più importante di priorità e si tratta soltanto quello che è importante è la devozione delle persone il resto è solo grazie a Dio la devozione ancora la nostra gente ce l'ha per i santi come ce l'ha anche per la Madonna e per il nostro Signore Gesù e questa è la cosa più importante grazie Padre Landoci grazie della vostra attenzione l'appuntamento a mercoledì prossimo per questa sera senti chi parla abbiamo finito grazie